Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Da oggi a inizio l'estate è meteorologica e a quanto pare inizio non solo sul calendario, infatti il clima risulta decisamente estivo su buona parte d'Italia. Un possente campo di alta pressione abbraccia tutto il bacino del Mediterraneo, garantendo stabilità e temperature in aumento. Attenzione perché nei prossimi giorni aria più fredda in quota forzerà le solide basi anticicloniche, riuscendo ad infiltrarsi e a sviluppare temporali durante il pomeriggio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 1 giugno. Al mattino soleggiato su gran parte del territorio, aumento della nuvolosità già dalla tarda mattinata a partire dalla Basilicata e in estensione nel pomeriggio alle zone interne del Foggiano e del Barese. Possibilità di locali temporali o rovesci sulle alture Lucani, sul subappennino Dauno, con locali sconfinamenti sul Foggiano. Maggiori spazi soleggiati invece lungo le coste. In serata accessano ovunque i fenomeni e i cieli ritornano sereni. Temperature calde già dal mattino, con aumento costante fino a raggiungere e superare i 30 gradi su molte aree interne. Nelle zone colpite dai rovesci le temperature caleranno velocemente. Venti deboli o calmi per lo più soffieranno dai quadranti settentrionali. Per quanto riguarda i mari, calmi ovunque. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone, che immortale un meraviglioso mare cristallino che annuncia l'estate in arrivo. Ci troviamo sulle bellissime spiagge di Torre Lapillo in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie.